Penso che il Presidente della Repubblica stia agendo nell'interesse del Paese e noi dobbiamo agire perché ogni suo sforzo risulti utile. BDL non è contento? Non so cosa dire. Ciascuno, diciamo, sceglie le proprie felicità e decide. C'è chi ha parlato di golpe bianco con questo strumento dei fatti? Mi pare che sia una grande esagerazione, forse è proprio il caso di smetterla con le esagerazioni partendo dai problemi reali che abbiamo di fronte e che riguardano migliaia e migliaia di famiglie del nostro Paese.